Promuovere le bellezze territoriali di Centola Palinuro attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani del posto. Nasce così l'evento Cento Lab tra arte, natura e gastronomia che si terrà dal 25 al 27 settembre presso l'anfiteatro Antiquarium a Palinuro. L'iniziativa giunge a conclusione del progetto di formazione We Station School Centola realizzato dal Comune e finanziato alla regione Campania che ha coinvolto giovani del territorio e laboratori gratuiti di videogiornalismo, youtuber, web tv e marketing territoriale tenuti da esperti del settore. Il programma della manifestazione prevede ora la proiezione di 10 spot audiovisivi finalizzati alla promozione di tutto il territorio di Centola Palinuro che i giovani partecipanti hanno realizzato nel corso dei laboratori. Poi lo spettacolo teatrale Ansel Kiss e la ricetta dei cento anni dedicata allo scienziato americano che ha studiato i benefici della dieta mediterranea nel Cilento e lo spettacolo della canta chef Angelica Sepe in patrimoni dell'umanità in tour dieta mediterranea e musica napoletana raccontati con musica parole e piatti. Per gli amanti della natura del trekking poi visite guidate alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi del territorio comunale come il sentiero dei Fortini e Torri e il borgo medievale di San Severino di Centola. Si tratta di una bella iniziativa detto il sindaco Carmelo Stanziola che coniuga la bellezza del nostro territorio con l'arte, il teatro e la promozione turistica. Un progetto interessante che ha visto protagonisti alcuni giovani locali che hanno seguito nell'ultimo anno un corso sulla comunicazione. Sono fortemente convinto che oggi il binomio formazione e professionalità siano la strada che i nostri giovani debbano percorrere. Tutti gli eventi sono su prenotazione e fino ad esaurimento posti.